Il lancio per Lallana, esce De Gea! Lallana sbaglia, De Gea il miracolo, pallone per Firmino, siamo fuori aria, prova Firmino e la palla è sul fondo. Direi errore molto grave di Lallana su quella che era stata una follia di De Gea. Ancora Liverpool, Firmino che fa da sponda, lancio a cercare Anderson, ben piazzato Blint, ma c'è ancora Firmino dall'altra parte, incredibilmente libero e Milner che può andare a battere a rete. Ha perso probabilmente un attimo di troppo, aspettando il rimbalzo, D'Armiel è andato a chiudere, seconda grande chance per il Liverpool, incredibile però la disposizione difensiva dello United. C'è Lukasz Leiva che alimenta l'azione, mentre è rimasto giù Schneiderlin, attenzione, Lallana fa passare Firmino, poi Anderson, prova Anderson, palla sul fondo, Liverpool che sta crescendo. Ancora Firmino, questa volta larga bene il gioco, Cana riceve in area di rigore, ancora Cana si libera, De Gea in calcio d'angolo. Direi la più grossa occasione per il Liverpool. E ancora una volta De Gea per la conferma che è questo il miglior giocatore quest'anno del Manchester United. Arriva Martial all'indietro, Fellaini ha dragato il gioco, Bortui Jackson, può andare il cross, il ragazzino, pallone dentro, tocca Runei per un istante, poi arriva Martial, attenzione Martial, il tentativo di Martial, la palla sul fondo, la migliore occasione per il Manchester United. Qui Cana, attenzione, un bel tiratore Cana, cerca la piastrella, Cana, poi va al tiro, De Gea! Non è finita, Firmino, ancora De Gea! E allontana Herrera! Arriva Anderson che allarga bene per Miller, pronto al cross, Miller mette un pallone che Saku! Impatta di testa ma con la parte superiore della fronte. Guamata, e lui questa volta che crossa, arriva Fellaini, la traversa e poi Runei! E Wayne Runei realizza il gol del vantaggio per lo United! Cana in assiste, conquista la linea di fondo, può andare il cross a Cana, pallone lì indietro, arriva Venteke, dal limite, Miller, poi Firmino, ma era in offside. Firmino era in posizione regolare peraltro, lo teneva in gioco Blint. Il rivio di De Gea, poi Fellaini e la fischio di Klatenburg per la settima volta nelle ultime nove partite, il Manchester United abbatte in Liverpool.